Amici di Marci Games, bentornati nella vostra serie preferita, siamo su Gym Simulator e oggi ragazzi potrebbe essere per adesso il penultimo episodio della serie Vi chiederete perché è il penultimo episodio, intanto entriamo, purtroppo ragazzi è finito, sono finite le cose da fare, è finito tutto, non stanno più aggiornando il gioco Stanno facendo tanti aggiornamenti piano piano, ma ancora raga non ci sono degli aggiornamenti effettivi Oggi andremo a fare una cosa molto bella, ovvero andiamo a comprare le robe da box, creiamo tutta la zona fatta meglio da questa parte Sistemiamo sicuramente la piscina perché mi avete detto che verde è inguardabile, quindi ragazzi seguirò il vostro consiglio L'unica cosa che ho visto nei commenti è che molti mi dicevano di prendere più attrezzature dello stesso tipo e fare un pochettino più di pubblicità Dovrei fare soldi, in questo caso non so come farne tanti ragazzi adesso perché non ne ho moltissimi realmente E quindi per adesso raga aggiorniamoci un attimino con il livello 11 e vediamo che cosa possiamo fare Perché con il livello 11 vi ricordo che possiamo prendere il secondo piano ma lo vedrete settimana prossima E possiamo prendere nel negozio questa cosa qua, ah no serve il 12 per la gabbia Quindi niente in questo caso adesso facciamo il livello 11 con il secondo piano e la settimana prossima andiamo a fare la gabbia E facciamo magari una stanza solo box, bellissimo mi piace un sacco, mettiamo sacco da box eccetera eccetera Noi classe bassa secondo me non dovremmo più farle, mi piacerebbe che ci fosse un aggiornamento in modo tale che ci fosse Non so che io decido che sia da dare alle persone, che ci sono i personal trainer eccetera eccetera Purtroppo però non ci sono, una cosa che però non vi ho mai chiesto in questi video è Mi lasciate un mi piace in gym simulator raga, siamo facendo dei numeri fuori da ogni logica Vi ringrazio tantissimo, vi voglio tanto bene, mi state facendo volare perché i simulator sono proprio il gioco che fa per me Mi fa veramente esprimere al meglio, faccio i video da solo e mi piace anche fare questa cosa da solo Quindi aspettatevi i prossimi simulator e piuttosto nei commenti scrivetemi cosa vorreste che io iniziassi Non mi schiede il supermarket che ormai l'hanno spammato un po' tutti Manca poco raga per il livello 11, io penso che voglio gestire un po' meglio anche tutta questa questione qua E vorrei anche magari più addetti perché purtroppo raga non sono veloci Vedete che la pulizia è sempre al 3%, 3, 4, 3, 4, quindi non so se mi fa volare Adesso direi di andare qua e sistemare un po' la piscina perché a noi la piscina serve che venga meglio Ho pensato di farla viola, ok? Secondo me la viola è un colore un po' più carino Semplicemente perché abbiamo già fatto di blu lì e quello lì dovrebbe essere il ro... Ah no aspetta no, mi sa che non è rosa è proprio viola Eh sì ragazzi no, niente scherzo Fammi vedere un attimino che colori ci sono che possiamo comprare Allora, pitture, potremmo farla anche rossa Potremmo farla rossa, se no raga ci tocca farla blu e rimane dello stesso colore degli spogliatoi Che dite? Raga fatemelo sapere sotto nei commenti, io non so cosa dirvi sinceramente Sicuramente il blu è molto meglio ed è più da piscine, su quello non abbiamo minimamente dubbi Quindi prendiamo il blu e andiamo subito a sistemare sta piscina verde Che più che una piscina è sembra tipo il set di un green screen fotografico E sì, effettivamente è molto viola Anche se, sapete cosa potremmo fare? Fare un po' blu, un po' bianco, un po' blu, un po' bianco E fare tipo come se fosse una roba un po' marinaresca Si dice marinaresca, non so se si possa dire, ma penso di sì L'unica cosa è che non sono tutti proprio pari pari Vedi che questo è un po' più piccolo Quindi vediamo se ce l'abbiamo il bianco E proviamo a vedere se ci piace intanto Questo è bianco, questo è bianco Giusto per fare anche un po' le cose diverse No facciamo sempre le stesse identiche cose E noi non ci piace fare sempre le stesse cose Oddio, ma sapete che non è così brutto? Sapete che non è così brutto? È un po' un peccato che qua si formi la linea un po' così Però dai, secondo me, secondo me ci siamo raga Quindi quasi quasi io andrei subito a fare questa cosa Metà e metà E vediamo un po' come viene fuori il totale Allora, però voglio fare di volta in volta Giusto per capire se mi piace Nonostante secondo me fosse addirittura bello Anche bianco e verde Però il verde effettivamente non è da piscina raga Me ne rendo veramente conto Cerchiamo di essere un po' creativi Perché se no non possiamo fare molto Purtroppo il gioco è corto Questa cosa un po' mi dispiace raga Mi stavo affezionando tipo tantissimo a questo gioco qua Quindi un po' mi dispiace se finisce in fretta Questo è bianco Blu, bianco Quindi questo è blu Poi di nuovo blu Ok Sta venendo secondo me bene E stiamo facendo un macello di soldi Voglio vedere però quanto costa raga Il livello successivo, il secondo piano Quello raga, secondo me costa un botto di soldi Vediamo un po' adesso Però secondo me 10.000 costa Che non me lo ricordo Mancano 25 di esperienza Ci siamo quasi No ho sbagliato Ho fatto bianco Quello che non devo far bianco Mannare Sono un disastro raga Meno 15 raga Meno 15 Eccoci qua Eccoci qua Che bello raga È tutto troppo bello Manca solo 10 Che miseria raga Cioè stiamo facendo veramente una gym incredibile Mi piace così si dai È molto più marinaresco Eccoci qua raga Livello 11 Finalmente Qua c'è un po' di gente in attesa Ci vorrebbe uno per la reception pure Questa cosa è da dire Allora standard Prendiamolo Poi cosa abbiamo da fare Prendiamo anche il bro qua Che è VIP secondo me No niente Di VIP non ce ne danno più Sta cosa non è che va molto bene Io vorrego qualche VIP che venga da noi Ecco finalmente Grazie dei suoi mille Carissima Vado a finire la palestra E poi prendiamo il secondo piano Non facciamo una cosa per volta Cerchiamo di non fare troppe cose Comunque sì Molto molto meglio raga Avevate ragione Non capisco perché questo sia vestito qua Però Non facciamoci troppe domande raga Ok Abbiamo finito tutta la piscina Devo dire che Allora È bella Ma mi dà un po' fastidio Il fatto che c'erano un po' di linee grandi Un po' di linee piccole Secondo me un po' rovinano il mood Però ditemelo nei commenti Dobbiamo anche cambiare il tetto qua raga Perché guardate che belli i tetti che sono Con il vetro Quindi È arrivato quel momento ragazzi Prendiamo queste persone Iscriviamole alla nostra palestra E poi Andiamo a comprare Il secondo piano È quel momento ragazzi Lo stiamo per fare 50.000 Ma raga ma è tantissimo Non so se ce la faccio Cioè no ce la faccio ce la faccio Ma è tipo tantissimo E non ho abbastanza soldi Qua ovviamente non possiamo assumere nessuno No vabbè raga Mi servono troppi soldi E non ce li ho adesso Noi non possiamo fare letteralmente nient'altro Raga l'unica cosa che possiamo fare È capito qua A parte che ho scoperto una cosa raga Veramente carina Adesso ve la faccio vedere Nello spogliatoio Io posso aggiungere la sauna raga Sauna e spa Ma ce la voi lo sapevate questa cosa Io non la sapevo eh Quindi la puoi mettere qui dentro Ah ne puoi mettere addirittura due Però costano 10.000 Senti facciamo una bella cosa raga Adesso aspettiamo che mi arrivino i soldi E concludiamo Con il secondo piano Aspetta un attimo Ci metto un attimo Tanto avete visto Ne abbiamo fatti 20.000 oggi Raga i soldi ormai qua si fanno che È una meraviglia 56.000 raga È allucinante Quanto si facciano in fretta i soldi Quindi È arrivato il momento ragazzi Allora Secondo piano L'ho appena comprato Anche allenamenti di gruppo Ah ma posso comprare un sacco di cose Allora raga Ma che figata Ah ma aspetta Ah ok Non ho più il secondo piano figo Però il secondo piano come si raggiunge Scusatemi se chiedo eh Non è che non voglio essere impertinente Ma io il secondo piano come lo raggiungo No aspetta un attimo Veramente Non so come si Ah ecco qua Ah però qui praticamente Io devo togliere queste cose qua Quindi aggiungiamo questo alimentario Anche questo E qua si sarà il secondo piano Che figata raga Altro che Due episodi Qua raga mi sa che possiamo aggiungere Veramente tanta tanta carne al fuoco Quindi molto bene Abbiamo secondo me Almeno tre episodi buoni da fare Ora mi vorrei concentrare Su capire cosa fare qua sopra Perché a quanto vedo Io qua Allora intanto dobbiamo Mettere Aspetta Questi nuovi attrezzi Aspetta un attimo raga Devo capire dove mettere questi attrezzi Perché la lat machine qua mi serve Che è questa qua Alla fine giusto No sono diverse raga Quindi no Devo metterla da qualche parte Oh cavolo Non so dove mettere La mettiamo qua Ma momentaneamente qua raga Secondo me dobbiamo fare un episodio Dove non apriamo minimamente la palestra Per una giornata Togliamo tutti i macchinari E li rimettiamo in qualche modo Peccato perché il secondo piano Raga secondo me Cioè il primo piano ci stava col vetro Però chiaramente Col secondo piano Non ha molto senso Ora Intanto prendiamo questi due qua Siamo già a 7000 Già raga Quindi per farvi capire Quanto stiamo facendo No voglio capire un attimino Voglio allenamenti di gruppo Come me li fa mettere Capito Perché in base a quello Capisco se mi posso muovere Mettendo in un secondo piano Delle altre cose Quindi facciamo il VIP anche questo Torniamo al menu principale Vediamo asserenamente di gruppo Che possiamo fare 18.000 costa Ah ok Livello richiesto 13 Quindi molto bene Invece quest'altro Fammi capire No allora ok Vuol dire che ci serve Ah ok Livello 16 E questo qua lo mette qua Quindi abbiamo tutta la parte sopra Che comunque rimane abbastanza libera Quindi ci sta raga Va bene No va bene Allora va bene Allora va bene Eh Spoilatoio al secondo piano Possiamo mettere la spanka Al secondo piano Nella piscina invece Posso solo cambiare il soffitto Perché sopra Ah no vedi Non posso cambiare niente Perché chiaramente Sopra c'è il secondo piano La gym 2 Il secondo piano Voglio cambiare Il soffitto Voglio farlo diventare così Vediamo un attimo Quanto costa Livello 13 Livello 4 Ok 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 È finalmente giunto Il momento di chiudere la palestra Ma noi ragazzi Rimarremo dentro A sistemare un po' Di cose Perché Stavo pensando Al fatto che Avendo La palestra vuota Riesco a capire un pochettino meglio Come strurare le cose E ho pensato al fatto che Tutti i tapirulani E tutte le ciclette Sarebbe figo Metterle qua davanti Ragazzi Perché secondo me È molto più bello Anche perché Vedono il davanti Sapete che in tutte le palestre Tipo I tapirulani Tutte queste cose qua Sono davanti Quindi lascerei la palla Salapesi Giù E prenderei Tutte queste cose qua Per metterle su Prenderei anche qualche Rematore in più Così almeno abbiamo più spazio E via L'unica cosa Che già pensavo di fare È creare la vetrata Grande sopra Che costa solo 10.000 In teoria Solo insomma Costa 10.000 Vediamo un po' La frontale È capito Capito raga Così è molto più bella Così è molto più bella Come livello 13 No Che sfortuna Quindi vabbè Allora ragioniamo col fatto Che sarà tutto vetro Tranne 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 queste qua Quindi vabbè Va bene raga Possiamo fare Questa cosa tranquillamente Questa cosa vuole Salve Non vuole venire in palestra Da me No Non vuole venire in palestra Quindi prendiamo Un rematore in più Allora dovremmo averci Un rematore in più Aspetta che possiamo prenderlo Eccolo qua Facciamo uno E io ne prenderei due Così ne abbiamo tre E siamo a posto Fammi vedere Quante ne abbiamo invece di tapi In tapi ne abbiamo Uno Due Tre Quattro Cinque Cinque Ne abbiamo Invece di qua Ne abbiamo tre Cinque Ne abbiamo cinque Cinque Secondo me va benissimo Non è neanche poco Ma ne ne è nemmeno troppo Quindi spostiamoci sopra Cerchiamo di metterle Direi in questa zona Qui partendo da qua Che secondo me raga È tanta roba Quindi facciamo così E ne mettiamo Una anche più vicino Qua tanto raga Poi qua ci sarà tutto vetro Quindi secondo me Ci sta più che bene Capito raga Guarda quanto è più bello Raga così Guarda quanto cavolo È più bello Qui si mettono questi qua Poi ci mettiamo Mirema tanto Fino qua Mi sa che si può Mettere tutto Non è ci sta Potremmo anche aspettare Di arrivare a livello 13 E fare un episodio Un più più corposo oggi Ma penso che non abbia Molto senso Allora forse ci mettere I primi rematori Che sono leggermente più lunghi Esatto capito Quindi facciamo così Qua ne possiamo mettere Altri due di rematori Direi di sì Mettiamo un altro qui E un altro qui Va un pochettino più distante L'uno dall'altro E poi ci vado a mettere Le ciclette Che sono veramente Piccoline da mettere Quindi siamo abbastanza tranquilli Qua ne mettiamo un'altra Qua ne mettiamo un'altra E qua mettiamo le ultime due Una di qua Se vedete che non me le dà assieme È per il semplice fatto Che una è un pochino Più rotta dell'altra E quindi serve il meccanico Per sistemare Guarda che bello così raga Dai Molto più ordinato E molto molto più bello Sono super super confident Che mi piaccia di più Stavo pensando di cambiare Anche tutti i muri Di sopra Di farli diventare arancioni Anche sopra Perché secondo me Chiaramente ha più senso Proviamo a vedere un attimino Se ha senso farlo Allora andiamo in pitture E mettiamo arancione Oppure potremmo fare rosso Il sopra per fare un pochettino Più diverso Potrebbe avere senso Quindi prendiamo sia D'arancione che il rosso Così almeno vediamo un po' Il rosso come sta Così almeno Abbiamo un occhio di riguardo Anche su questo E magari voi decidete Nei commenti Se mi piace di più il rosso O preferite che lascio Tutto arancione Io metto il rosso Intanto Non lo metto ovunque Chiaramente Forse è un po' Troppo sgargiante Se devo dire la mia Forse è un pochettino Troppo sgargiante Vediamo Rispetto all'arancione Facciamo così Facciamo questa parete Rossa E questa quella di fianco Arancione Così capiamo Quale ci piace di più Ok facciamo così E adesso ci mettiamo L'arancione E l'arancione Potremmo metterlo Sì mettiamolo di qua Che magari sta bene Eh forse preferisco L'arancione mi sa Mi dà più l'impressione Di palestra eh Troppo sgargiante Non lo so Non so vediamo Come sta Vediamo qual è Che mi piace di più Eh in realtà Sono belli entrambi Anche assieme Devo dire che non stanno male Però a voi La scelta Nei commenti Ma sono molto contento Del tappi E di questa cosa qua Qui abbiamo anche Molto più spazio Ragazzi Quindi io avvicinerei Un po' le cose Cos'è meno qua Abbiamo un po' più spazio Al centro Per fare anche Delle altri ingressi Forse davanti alla finestra Ci andrei a mettere Quelle cose Che sono un pochettino Più chill Tipo questi macchinari qua Oppure Propri pesi Sai che i pesi Davanti alla finestra Che ti guardano Mentre tiri sul peso Sai che non è male Come cosa Forse ho deciso Che farò così ragazzi Andremo a mettere Le panche Davanti all'ingresso Però voglio capire Che panche ho Quindi fammi vedere Un attimino Io ho la panca piana E l'altra panca piana Cosa cambia tra le due Mi sembra niente Forse però Comprarne magari Una in più Non sarebbe male La panca piana Abbiamo questa qua Che è quella da una stella Noi vogliamo quelle Da più stelle Chiaramente Abbiamo esattamente Queste qua Io ne metterei altre Boh forse due Se ne mettiamo altre due Che secondo me Va bene E mettiamole subito Dai vediamo un po' Come sta qua Allora Togliamo anche magari Questo E questo qua Che non mi piacciono In queste zone qua Li metterei più Da questa parte Guarda come voglio fare Allora Decorazioni no Piazzone no Pitture no Extra e piscina Eccole qua Lo metterei qui Guarda lo metterei esattamente Da questa parte qui E lo metterei esattamente Dalla parte opposta Sempre di qua Sapete perché? Perché almeno Prende meno spazio E ha più senso Almeno qua è tutto Completamente libero Ora abbiamo detto Che mettiamo le panche Quindi mettiamo una panca Qui Mettiamo un'altra panca Di qua Sono tutte diverse Che palle Va bene raga Fa niente Facciamo così Forse ce ne sta addirittura Una quarta Sai? Una quinta volevo dire Facciamo così E facciamo così No vabbè dai Penso che quattro Possano bastare È che sono molto vicine No non mi piacciono così vicine Devo farle un po' Più distanti Prendi Prendi E prendi Devo capire per farle più distanti Cosa devo fare Che era un po' troppo Eh vedi lo devo guardare dall'alto Non avevo visto sta cosa Quindi facciamo così Questa chiaramente la facciamo leggermente più distante Così Sono anche abbastanza regolari Come le ho messe Quindi Tanta roba Questo qui invece lo mettiamo sempre così E ci siamo Guardate che belle Belle tutte unite E a sto punto qui ci mettiamo i manubri Perché i manubri qua Però i manubri qua non sono così male Che dite voi? Non so Prendiamo anche questo Lo mettiamo qua davanti Così almeno abbiamo Anche questo che è carino Ho messo qua Forse è il contrario Devo metterlo Ecco qua Così molto meglio direi Sì Direi Direi centomila volte meglio L'unica cosa è che non so se voglio mettere i manubri qua Perché qua comunque Chiaramente non ci stanno Qua metterei qualcos'altro Per dire Tipo questa E questa Le mettiamo qua sul muro Che sono molto più belle Quindi facciamo così E questa qua pure la mettiamo di lì Quindi devo cercare di prenderla Ok Vediamo se così mi piace Perché non posso metterla qua? Perché chiaramente c'è questo Vediamo se senza di quello posso metterlo Eh sì Eh sì Dai così è più carino Raga qua ci mettiamo tutti i macchinari Un po' più grossi Mi piace anche l'idea di tenere comunque I pesi qua Che creano comunque una sorta di contorno Però una cosa che mi avete detto È di fare tutto legno da questa parte Quindi ce l'abbiamo le piastrelle Che possiamo prendere Le piastrelle abbiamo 243 di legno Quindi capiamo se ci piace di più Secondo me tutta sta zona qua Deve essere di legno E siamo tutti d'accordo Anche qua a sto punto adesso Qui deve essere tutto legno Perché uno deve comunque passare E direi che teniamo anche questa parte così Dai Così è carino Almeno uno entra E ha la zona per poter andare Direttamente negli spolatoi Però Utilizziamo adesso i manubri Per fare questa cosa qua Guarda Ne creiamo una sorta di angolo Facciamo così direi Questo lo giriamo Il cagnolino che mi segue Mi fa volare raga Ve lo giuro E questo lo mettiamo qua Aspetta Però questo qui lo possiamo riprendere E mettere sempre un pochettino più distante Vogliamo te devi andare leggermente Però sai Qui è verde E qui è verde Così Guarda che bello raga Bellissimo così Uno arriva Ai manubri di qui Magari li mettiamo al manubrio Anche qua dietro Sì perfetto Ora così ne abbiamo tre E sono perfetti Vediamo se mi piace così Bellissimo raga Entri Hai manubrio qua Manubrio qui E manubrio qua Poi hai Queste machine qui Che non mi ricordo come si chiamano Bello Così mi piace Stavo addirittura pensando Che tutte queste qua Le dovrei togliere Perché qua non ci stanno Proprio per nulla E tutta questa zona qua La facciamo diventare La zona diciamo Cibo Ok Secondo me è più carino Perché lasciare qua Un pezzo di palestra Non ha senso Quindi di nuovo Torniamo in pitture Piastrelle E mettiamo queste qua Va che bello raga Ora è molto più carino Mi piace anche che si forma questo angolo qua Secondo me ci sta abbastanza Cioè a me piace Non so a voi se piace Peccato che questo qui non può rientrare proprio tanto qui Però dai Va bene Quindi prendiamo questo E questo E le mettiamo da questa parte qua Che è molto più bello Quindi consumabili Prendiamo il distributore automatico Lo mettiamo qua Dove parte l'arancione Quindi ne mettiamo uno qui E direi Ne mettiamo uno Anche da questa parte qua Così si vede comunque Do it for the people You want to see you fail Quindi fatelo per le persone Che vogliono che tu fallisca Qua arancione Anche qui arancione Devo capire le scale Se le voglio arancioni Ma non si può dipingere No raga Cioè rimane bianco per forza Che brutte le scale bianche Questo è brutto però eh Non mi piace per niente raga Mettiamo giusto le piastrelle anche qui E qua Secondo me è perfetto raga Vedete che c'è un po' più di spazio Ed è veramente bello Perché almeno uno entra E va direttamente nella piscina se vuole Ho tolto un po' di cose qua in mezzo Perché voglio ristrutturare un po' meglio Chiaramente Allora abbiamo le macchine grosse Che sono Le macchine La macchina Pack deck Che queste sono veramente grosse Ne abbiamo addirittura tre E non saprei bene come metterle Quello che ho pensato è stato Ma se noi Andiamo a togliere Quelle cose dritte Creiamo i due corridoi Non è meglio Forse sì Quindi Facciamo così Togliamo questa E questa intanto E questa qua Poi queste qui Adesso capiamo un attimino Mettiamo Dov'è che sono Eccole qua Queste qua E ne mettiamo una da questa parte Messa così Ok La mettiamo magari in questa maniera qua E di fronte mettiamo l'altra Così vediamo quanto spazio Dobbiamo dare Una all'altra Più o meno a questa distanza Quindi cerchiamo di stare abbastanza dritti Perché non voglio farla troppo Troppo sbagliata Io farei così Secondo me Ecco Un pochettino di più Sì forse leggermente di più dai Forse così Ecco così è perfetto raga Così almeno da questa parte Noi possiamo fare la stessa identica cosa Prendiamo giusto queste qui Che si chiamano Esattamente Allenatore funzionale Che io non mi ricordavo Si chiamasse così E mettiamo l'altra Esattamente dalla parte opposta Vediamo se sta bene Oppure no Forse sì forse no Deve sta dritto Lo mettiamo più indietro possibile Così Vediamo un po' Questo di spazio ha Uno due tre Quattro Quattro diciamo E questo ha Uno due e tre Più o meno quattro Dai se facciamo il fatto Che questi qui sono grandi Però ricordiamoci che qua Avrà molto meno spazio Perché ci sono queste qui Quindi secondo me Può avere senso Quindi abbiamo detto Che quindi mettiamo Questo qua di lato Forse possiamo mettere abbastanza Ah no aspetta ci sono i tubi Vedi Mettiamo i tubini così E vabbè chi deve caricare Chi se ne frega raga Non ci pensiamo A chi deve caricare Il macchinario fa niente Le pack deck Le mettiamo di qua Lo abbiamo deciso di fare Però dobbiamo lasciare Un po' più di spazio Tipo così Così va benissimo E anche queste qui Vanno benissimo Tipo così Vado leggermente più a destra E vanno bene Guarda che bello È un pochettino Una più distante dell'altra Ma chi se ne frega Qui invece ci mettiamo Queste qua che sono piccole Vedi che sono piccoline qua Quindi almeno Posso avere più spazio Per andare più indietro possibile Tipo così Vediamo un po' È abbastanza vicina Però secondo me Può andar bene Ecco qua Guarda che bella Sono molto belle queste Ce ne metterai addirittura Tre quasi quasi C'è anche abbastanza spazio Una dall'altra Quindi direi ok L'unica cosa che ho visto Che c'è una in più Di questa pack deck Quindi Dobbiamo cercare di capire Se le vogliamo mettere vicine Anche queste qui Oppure no Per me così ci può stare Abbiamo creato due angoli Abbastanza interessanti Ho completato ragazzi La palestra E secondo me Ora è molto più bella Ve la faccio vedere Qui abbiamo una bellissima zona Dove abbiamo Tutte queste macchinari qua E ho ricambiato nuovamente I bilancieri Questi qua sono molto più belli I pesi insomma E ho messo queste due macchine Una di fronte all'altra Ho riordinato anche questa parte qua Secondo me è molto più carina Qua diritto non ci sarà niente Magari ci possiamo mettere un quadro Anzi mettiamoci direttamente il quadro Perché uno mi sa che ce l'ho Come decorazione Eccola qua Guarda così Deve essere provare sul sotto Stop the thinking Start doing Smetti di pensare Inizia a fare Ok Chiudiamo la porta Abbiamo chiuso la palestra Io avrò un'ora e mezza di sonno Perché come ben sapete Alle 8 Bisogna aprire la palestra Quindi dormiamo Immediatamente Dormi Oh mi sono svegliato E sono passate esattamente Un'ora e quaranta Molto bene direi Palestra aperta E inizieranno ad arrivare Ragazzi I nostri cari amici Stavo pensando Che con tutti i soldi Che abbiamo in questo momento Possiamo permetterci di comprare Magari qualche Di questi qua in più Ne prenderei 1 2 E 3 Speriamo di sbloccare qualcosa Qua è che non me lo fa vedere Quindi magari ancora Non si può sbloccare Granché Abbiamo tantissimo da fare Se pensavo di dover concludere In pochissimi episodi Invece raga Penso proprio di no Quindi qua facciamo così Abbiamo detto E ne mettiamo un altro qua vicino Un altro qua vicino E un altro qua vicino Guarda che bello Così è molto più carino Non so se mi piace questa zona qua Fatta così Boh Devo ancora decidere Se ci voglio fare comunque Una zona Boh Una sorta di mini corridoio Fatto con le macchine Solo che di macchine raga Siamo già a posto qua dentro È perfetta Cioè la nostra La nostra palestra È letteralmente perfetta L'unica cosa che manca Sarebbe da prendere Chiaramente Questo qua Questa gabbia da box Che non so quanto sia grossa raga Quindi bisogna capire anche quello Guarda vorrei giusto capire Se ha senso mettere comunque Uno in più di questi Distributori automatici Magari metterlo proprio di qua Così ne abbiamo Due più uno Forse può avere senso Perché almeno Boh Mi piace un po' di più Forse Quello come faccio A toglierlo così Più che altro Che questo Aspetta Forse questo qua Lo posso prendere E mettere leggermente più distante Vediamo un attimino Se lo posso mettere un po' più sopra Tipo Qui così Che si Eh non si Beh dai Si vede abbastanza meglio Noi non possiamo mettere Tante macchinette Che sono un pochettino più carine Aspetta Facciamo così Allora Prendiamo questo Prendiamo anche questo Ehm Mettiamo Come consumare Come extra Questi qua A partire da qui fuori Quindi leggermente da No Cosa devi girare Non devi girare Così Ci mettiamo così Mettiamo questo E mettiamo anche l'ultimo Vediamo se ci sta bene Ok Almeno si vede anche Tutta questa zona qua Che ti dico la verità Non mi dispiace Ci vado a mettere Un condizionatore qua sopra Che va Fa sempre comodo Magari proprio vicino qua Ok E ci mettiamo un cestino di fianco Raga Perché i cestini Cavolo Voi non ci pensate Ma io non li ho messi Durante tutta la zona Cioè In tutta la La palestra non ci sono Quindi non ma Oddio Cos'è che mi sta indicando Che mi indica quella zona Hai visto che mi indicava Quella zona lì Non ho capito raga Vado in mano qualcosa Tipo No non mi indica più niente Boh Che strano Quello che è successo Raga Devastante Vabbè a sto punto Già che ci siamo Mettiamo questo qua qua Però dobbiamo prima Togliere questo qua E mettere quello grande Bello Molto 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 bello Qua sta già arrivando Un sacco di gente E non va bene Non abbiamo abbastanza spazio Quanti siete Standard Sì Stan Dimmi che sei VIP Il prossimo Così ci facciamo Un batto di sardi VIP Standard Dai ce lo facciamo andare bene Questo è da riempire banalmente Mettiamo acqua Questo 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 Così cerchiamo di mettere Tutto quello che possiamo E riempiamo tutto Perfetto Quindi mettiamo Acqua così Facciamo così Così abbiamo un sacco di proteine Un po' di questo qua Un po' di questo Un po' di questo Oh raga Fantastico Riusciamo a mettere tutto Ok Siamo riusciti a riempire Anche tutte le altre macchine Quindi Tanta roba Raga Molto bene Troppa gente Sta arrivando Quanti ne abbiamo Nella nostra palestra Raga 107 Ma sono tantissimi Facciamo 14.000 al giorno Solo Di persone Che entrano e escono Senza contare Gli abbonamenti Quindi infatti Ieri ne abbiamo fatti Tipo 50.000 Raga Una roba Fuori di testa Ma che fa questa Oh A bello A bello Via E picchiamo tutto No ma lei proprio Non era da picchiare Era da picchiare l'altro Ma questo al contrario Raga Che brutto Vabbè Con questo qui al contrario Raga vi saluto Penso che sia voluto fare Un episodio veramente corposo Ma lo saprà solo Andrea L'editor Quindi ci vediamo In un prossimo video Abbiamo fatto un sacco di cose Secondo piano Sistemato la piscina Sistemato la palestra Spettacola Cretino E anche la piscina Forse dobbiamo mettere Un po' più di questi Perché è sempre Pieno qua Quindi Ma questo è vestito Ma è vestito Con i vestiti Ma è stivra Questa è palesemente Steve di Minecraft Eh